Non c'è alcun dubbio che la nostra intenzione sia quella di agire in maniera armonica e quindi non qualcosa che viene prima, qualcosa che viene dopo. Se fosse stata questa l'idea avremmo agito diversamente, noi abbiamo pensato che ci fosse un tema urgente nella nostra legislazione e l'abbiamo affrontato con un decreto perché avevamo la convinzione che fosse necessario dare un diverso setto ai contratti a tempo determinato e all'apprendistato che era organizzato in maniera troppo complessa, troppo complicata, troppo incerta, solito problema di questo paese per cui gli imprenditori e i lavoratori non hanno scelto l'apprendistato perché aveva quei limiti e abbiamo cercato di correggerli. Quindi questa è la scelta che abbiamo fatto ma abbiamo usato la legge delega appositamente per questa ragione.